Per la raccolta differenziata degli abiti usati, nella città dell'Aquila i cassonetti per la raccolta tessile di colore giallo verranno sostituiti con nuovi cassonetti di colore verde, a fronte del potenziamento del servizio. I nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei vestiti usati da circa 30 passano così a 70 contenitori, dislocati in tutta la città, incluse le frazioni e i progetti case. Il posizionamento è ancora in corso e terminerà entro la prossima settimana. Nell'immaginario collettivo si pensa che i vestiti raccolti vengano direttamente distribuiti alle persone ingenti, mentre dopo la raccolta vengono selezionati, stoccati e igienizzati, seguendo un processo di tracciabilità. Il capo che entra nel cassonetto verde viene riciclato in impianti industriali che ne permettono la rigenerazione, la trasformazione e il reinserimento sul mercato con la massima legalità e igiene. Si ricorda che nei cassonetti verdi possono essere conferiti abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse, coperte, scarpe appaiate in buono stato ed altri accessori per l'abbigliamento. Non si possono conferire nei cassonetti stracci, materassi, scarponi da sci, stivali di gomma, pattini e tutti materiali non tessili. Si chiede che il conferimento di abiti usati avvenga in sacchi ben chiusi e non troppo voluminosi.